Per la prima volta nella storia della Repubblica, Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria con 175.547 voti, pari al 24,4%. Sopra al Partito Democratico, con 159.805 voti, pari al 22,21%. Il dato è delle 18, quando mancano due sezioni al Senato e una per la Camera. Alle politiche del 2018, il partito di Giorgia Meloni ottenne 29.100 voti, pari al 3,62%, mentre il Partito Democratico aveva 164.211 voti, pari al 20,44%. Trainata da Fratelli d'Italia, la coalizione di centrodestra in Liguria ottiene il 42,51% dei voti, 12 punti percentuali sopra il centro-sinistra, che si ferma al 30,18%. La terza forza politica della nostra regione è il Movimento 5 Stelle con il 12,91%, seguito dalla Lega con l'8,78%, dall'Alleanza Azione Italia Viva con il 7,22%, Forza Italia con il 6,73%, l'Alleanza Verdi Sinistra con il 4,16% e noi moderati al 2,6%. La Liguria esprime 15 parlamentari, 5 senatori e 10 deputati. Al Senato, quando mancano ancora due sezioni per completare lo scrutinio, sarà eletto l'assessore regionale Gianni Berrino di Fratelli d'Italia, già certo dell'elezione, avendo vinto il collegio uninominale 1. Nel collegio 2, all'uninominale, Stefania Pucciarelli della Lega è in netto vantaggio su Guido Melle del centro-sinistra. Nel collegio plurinominale del Senato risultano eletti Roberto Menia di Fratelli d'Italia, Lorenzo Basso del Partito Democratico e Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la Camera, quando mancano ancora i conteggi finali, su dieci seggi in palio per la Liguria, hanno la certezza di essere stati eletti Edoardo Rixi della Lega, Ilaria Cavo e Roberto Bagnasco, mentre nel collegio di Genova Ponente, Luca Pastorino del centro-sinistra è in vantaggio su Sandro Biasotti del centro-destra.